Nel comune di Valdilana il saldo demografico registra un segno negativo. Le nascite, nell'ultimo anno, sono state piuttosto contenute nei comuni di Trivero, Soprana, Mosso e Valle Mosso, mentre sono in aumento i decessi. Tra gennaio del 2021 e gennaio 2022 sono nate 43 persone, mentre 73 sono stati decessi. Più o meno un nato ogni quattro morti. Da registrare un altro segno negativo anche per quanto riguarda il saldo tra immigrati ed emigrati. 305 sono le persone che hanno cambiato residenza, mentre 264 quelle che si sono trasferiti nel nuovo comune. Un altro dato da evidenziare lo si riscontra nel censimento del 2010, quando il progetto di fusione non era ancora partito e le quattro municipalità di Trivero, Mosso, Soprana e Valle Mosso registravano 12.307 abitanti. Dunque, il dato del calo demografico è evidente e se si va ad analizzare la situazione, non è tanto il saldo migratorio a preoccupare, ovvero il rapporto tra immigrati ed emigrati, quanto piuttosto il rapporto tra nati e morti. Il sindaco della paese Mario Carli sottolinea abbiamo una popolazione per lo più anziana e questo ci deve spingere a ripensare i servizi, come il potenziamento della sanità sul territorio, oltre a maggiori cure domiciliari.